Ciao ragazzi, sono Caverna di Platone e oggi volevo recensirvi quella merdaccia di Naruto. Allora, che cosa si vede in questo numero? In pratica ci sta lo scontro finale tra sto strozzo di Naruto e Nagato. Aperto il fatto che hai realizzato proprio una chiave, guarda. Scusate! Oh no, no, fermo, fermo, aspetta, aspetta! No, no! No, no, no! E' un togna brutto! Madonna che venti faccio! Mamma mia, mamma mia, maleditto Naruto. Cazzo, è finita la carta igienica, ma chi è il bastardo che lascia il pezzettino di cartone invece di mettere il rotolo nuovo? Come faccio adesso? Oh, vedi che è finita la carta igienica. Non ti preoccupare, ho già risolto. Ma come cazzo ho risolto? La cartigienica è finita? E... Naruto? Tutto. Tutto. Grazie a tutti.